Il Vangelo in casa questa volta è in una casa particolarmente suggestiva, è l'eremo di Santa Caterina del Sasso, sulle rive del Lago Maggiore, qui c'è la comunità Fraternità Francescana di Betania e il suo superiore generale è con noi, si chiama Paolo Crivelli, con lui commentiamo i Vangeli di queste domeniche del tempo di Pasqua, siamo arrivati alla terza domenica del tempo di Pasqua e questa domenica racconta di due discepoli che se ne vanno, se ne vanno via da Gerusalemme perché tanto ormai è tutto finito, è tutto andato, quello che c'era da vedere l'hanno visto e vanno via anche molto delusi. L'esperienza mi sorprende sempre perché in fin dei conti Gesù gliel'aveva detto tante volte, tre volte gli aveva detto che sarebbe risorto, doveva succedere questo, sarebbe morto, risorto, tre volte poi un numero che potrebbe voler dire gliel'ha detto tante volte, continuava a dirgli sempre questa cosa e poi hanno avuto dei messaggi particolari, lo dicono loro stesso Gesù che si affianca loro camminando e che loro non riconoscono, nel senso che una donna è andata alla tomba e ha visto che era vuota, altri due discepoli sono tornati a vedere, hanno ratificato quanto aveva detto la donna che probabilmente nella loro ottica non era molto affidabile, però ugualmente non hanno il coraggio di rimanere, hanno paura, ormai per loro è tutto finito, è tutto chiuso e quindi se ne vanno. C'è una cosa che mi impressiona sempre è questo fatto che nessuno riesce a riconoscere Gesù il risorto quando arriva. Gesù si fa riconoscere, nella domenica scorsa per esempio si è fatto riconoscere da Tommaso sottolineando come dire la sua apparenza umana, la sua apparenza anche uguale a quello che era prima, cioè addirittura con i segni della passione, eppure nessuno lo riconosce. Per me questo è un segno molto importante che ci dice come tante volte noi non riconosciamo la presenza di Gesù nella nostra vita. Ci sembra che non ci sia, ci sembra che sia lontano, anche noi nella nostra esperienza di fede possiamo essere delusi come discepoli di Emmaus e quasi sentirci anche noi di voler lasciare Gerusalemme, in qualche modo di voler lasciare la nostra vita ecclesiale, la nostra vita di fede, perché dopo magari i momenti dell'entusiasmo iniziale di quando abbiamo incontrato il Signore adesso ci sembra tutto finito, tutto chiuso e invece Gesù ci sta camminando a fianco, questa è la cosa straordinaria. E Gesù si affianca come un pellegrino, poi di fatto però non è un pellegrino che rimane estraneo, anzi si mette addirittura a rifargli la catechesi in altra volta, cioè a dirgli ma non avete proprio capito niente. Ma diciamo che la cosa interessante è che sembra che questo pezzo del Vangelo segni proprio un cammino di catecumenato, è come se fosse veramente tutto l'itinerario di fede che devono fare, perché effettivamente quello che succede alla fine è che questi discepoli sono totalmente trasformati. Quelli che erano paurosi, timorosi, torneranno di corsa a Gerusalemme di notte e non avranno più paura ad annunciare il grande evento. Che cosa succede? Gesù comincia a fare loro delle domande, anche questo è interessante, non è che comincia a parlare, ma di che cosa state parlando? Raccontatemi. E loro stanno a raccontare la loro esperienza di quel momento. Ma forse tu sei così straniero da non sapere tutto quello che è successo. Questo Gesù che noi credevamo fosse un profeta potente, straordinario, è morto, l'hanno messo, lui ha detto che sarebbe risolto, però poi sono successe queste cose ma noi non ci crediamo in fin dei conti. Quindi la prima cosa che fa Gesù è mettersi in contatto con le persone nel loro stato di fede di quel momento. accoglie quello che sono e poi da lì le prende, quindi le raggiunge nel loro intimo e poi le prende per mano e partendo dalle scritture più antiche spiega a loro come tutto questo era quello che doveva succedere, non quello che loro pensavano, ma quello che doveva succedere era proprio questo. E fa tutta una grande catechesi, ma ancora non si è rivelata, è straordinaria questa cosa. Però in qualche modo l'esperienza di questi discepoli è coinvolgente, è coinvolta. Gesù fa finta di voler andare ancora per la sua strada e loro lo invitano a cenare con lui, con loro ed è durante la cena che si manifesta attraverso la ripresa di uno dei gesti che aveva fatto. E questo non sarà l'unica volta perché se pensiamo che sul lago di Tiberiade ritornerà a far fare una pesca miracolosa a Pietro come aveva già fatto al momento della sua vocazione, questo fa capire che tante volte anche nella nostra esperienza di vita spirituale i il Signore si rende manifesto a noi, il Signore che cammina con noi anche quando non lo riconosciamo, rifacendo qualcosa che aveva fatto nella nostra vita, ridandoci qualcosa della nostra esperienza originaria per far capire che Lui è presente anche adesso, tutto sembra cambiato, ma stiamo camminando sempre con Lui. Tra l'altro questo brano delle scritture in qualche modo riproduce esattamente quello che succede in una messa. Certo, c'è proprio tutta l'evento liturgico, c'è l'accoglienza che è il primo momento, poi c'è la liturgia della parola ed è questa esplicazione che Gesù fa, poi c'è il momento eucaristico durante il banchetto e poi c'è il congedo che è la missione, perché noi spesso pensiamo, no? Andate la messa è finita, era più bello la chiusura latina che diceva Ite missa est, andate che la messa è quella, diceva Don Tonino Bello, è adesso, non è che è finita. È quella che c'è dopo, sì. Difatti i discepoli di Amos corrono ad annunziare, diventano discepoli, diventano apostoli, diventano annunziatori. Tra l'altro è anche qui molto bella l'esperienza per cui loro gli dicono a Gesù fermati che è sera, sta venendo la sera, no? Come dire, non vogliamo stare da soli, no? In questa sera che viene. Sì, è un po' la sera della vita, quella cosa, no? Lo dicevi prima, loro partono con queste grandi delusioni, con questa difficoltà, è un po' quello che noi dicevamo anche di questo sentirsi non più pienamente dentro l'esperienza religiosa, l'esperienza ecclesiale, un po' delusi, un po' abbandonati, è la nostra sera, non è la sera di Gesù. Però Gesù riesce a trasformarla non più in una notte, dopo loro affronteranno la notte correndo senza problemi. Ci rivediamo la settimana prossima. Auguro ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori una buona settimana in cui possano anche loro correre come corrono tutti quelli che hanno incontrato il Cristo risorto. Buona settimana! Grazie a tutti! Grazie a tutti!